Ci serve qualcosa? La punta della freccia che c'è dentro? No, no, no Una mano per farci in presa Una mano per farci in presa Sssssss Lupe Aiuto il successo Ok Tenuto? Terra No, no Non puoi riuscire a rispondere? Eh, bene Dica qualcosa Ah, buongiorno Scusi se disturbo Ma io faccio finta di fare il coordinatore della protezione civile di Paolo Terminano Però mi fanno fare il cuoco Non so come mai Non è Non è Non è Sì, sì, sì. grazie a tutti Dato, bravissima!